Una serie del 1977, l'incredibile Hulk, 5 stagioni, carina, bisogna calcolare che bisogna andare in giro a cercarsi il DVD che ha fatto con la chiusura, con la morte dell'incredibile Hulk, difficilmente recuperabile, però se vuoi avere una cosa completa, l'Ulferrigno si vedono tutti i muscoli, competeva con Schwarzenegger, non è mai riuscito a batterlo, e basta che c'è da dire, cosa gli diamo a questa serie del 1977? 7 e mezzo, perché comunque i trucchi erano quelli che erano, però...